E' tempo di ripartire in casa Salofra dopo il K.O. del De Cicco contro il Saviano. Il DS De Giallo-Blu, Giuseppe Tornatore, amareggiato per il risultato, carica i suoi in vista del derbito di domani al Superga contro il Montoro. Soltanto una disattenzione non ha permesso a Conciari di strappare punti alla prima della classe. C'è da fare in assoluto un elogio alla squadra perché comunque contro il Saviano ha giocato benissimo. Il risultato penso che l'avete visto tutti, l'hanno visto tutto. Per me è un risultato bugiardo. Usciamo sconvitti quando forse il pareggio ci stava stretto. Paghiamo le conseguenze di un errore purtroppo del nostro under lì sulla destra e abbiamo preso gol. Il dirigente di Aiello però scommette sulla forza dei suoi uomini. Il Solofra infatti ha numeri a Rosa per disputare un torneo importante. Io ho seguito varie volte il Montemiletto e pure nella gara precedente che ha vinto con il Saviano e diciamo che sono due buone squadre. Oggi a dir la verità non si è vista quella differenza tra noi e il Saviano. Il risultato per chi non ha visto la partita crede e pensa che il Saviano abbia dominato ma non è così. Non è così perché abbiamo giocato bene e il risultato ci ammerisce. Però il bello del calcio è proprio che mercoledì abbiamo un'altra partita, domenica un'altra partita e quindi ci cerchiamo di rifare. E adesso stiamo già pensando e concentrati per mercoledì. Abbiamo una rosa competitiva e cercheremo di almeno di iniziare e di prendere il cammino.